deve però bisogna stare attento a questo mica che cade se riusciamo a farlo cadere giù e lasciarlo lì è meglio perché è enorme tagliare questo sai cosa ci vuole però se riuscissimo a lasciarlo su era meglio fa niente ma se sta lì è meglio evitiamo di tiriamo via tutto questo prima sì però state no bisogna stare attenti bisogna stare attenti sì ma che non tagliamo questo viene giù no restiamo sotto eh no capì ma dico dobbiamo tagliare questo qua prima perché è il nocciolo che lo tiene su quindi vai piano e questi vanno tagliati taglia prima questi